Pelare le arance Eliminare la buccia e tutta la parte bianca sottostante Tagliare la polpa in pezzettoni Aggiungere lo zucchero e lasciare sciogliere Cuocere per circa 1 ora a fuoco dolce, finché la marmellata non raggiungerà i 108 gradi Aggiungere la marmellata di arancia con i formaggi o con pane e burro Buon appetito! Mmm